Il comune di Pescara è in corsa per salvare la stagione balneare 2017. Per farlo è servito l'intervento della regione, obiettivo un nuovo depuratore che sostituisca quella ormai giunta al collasso e poi il tanto agognato abbattimento della diga foranea. Proprio questa mattina abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo nelle aree dove è possibile realizzare le vasche di raccolta delle prime piogge in modo da garantire in caso di maltempo che non ci siano quegli sversamenti al fiume tale da richiedere l'applicazione dei divieti di balneazione. Stiamo correndo come non mai affrontando e scontrandoci con la burocrazia, con i tempi lunghi di percorsi amministrativi che per forza di cose dobbiamo affrontare. La corsa per la prossima estate attende ancora alcune tappe fondamentali e già si pensa agli accorgimenti da avere. L'obiettivo è di realizzare un qualche cosa che consente all'attuale depuratore che ormai al collasso non ha più possibilità di ricezione di ulteriori refuli di poter garantire un accumulo di quelli che sono i refuli nell'immediatezza soprattutto quando ci sono le avversità atmosferiche e evitare che ci sia il rilascio al fiume e al mare di inquinanti che possono compromettere l'abbalneazione. Su questo stiamo lavorando così come stiamo lavorando sulla regione anche per verificare la modifica dei metodi e tecnologie per poter definire meglio quanto, come applicare l'eventuale divieto di balneazione.